Memoria di guerra per parlare di pace. A cento anni esatti dalla consegna al comune di Limana della Croce di Guerra al Valor Militare, l'amministrazione comunale del paese della Sinistra Piave ha voluto ricordare le gesta della popolazione che dopo la disfatta di Caporetto del 1917 aiutò il capitano di bersaglieri Luigi Ardoino, in fuga e braccato dal nemico austro-ungarico, dandogli appoggio e protezione e sostenendolo nelle azioni di disturbo nei confronti dell'esercito invasore, trovandosi anche a farsi carico di oltre 500 profughi provenienti dalle vallate vicine. Una prova di solidarietà e coraggio che spinse l'allora ministro Armando Diaz a conferire al comune di Limana il prestigioso riconoscimento, unico comune in Italia, assieme a Seren del Grappa. Questa medaglia che veniva conferita solo per la partecipazione all'azione di guerra si giustifica proprio perché queste persone aiutarono i militari a raggiungere i loro luoghi di destinazione, cosa abbastanza rara perché i militari normalmente non si avvalgono dell'aiuto dei civili, cosa abbastanza rara. Davvero ricco il programma della manifestazione. Lungo le vie del centro hanno sfilato le associazioni limanesi, i gruppi frazionali accompagnati dai canti dei bambini del coro arcobaleno, dalla fanfara dei bersaglieri, dalla filarmonica di Belluno, dagli alpini e dai vari gruppi di rievocatori, assieme alle autorità civili e militari, alle associazioni combattentistiche e al picchetto d'onore in armi. È un valore storico che ci fa pensare che il tema della guerra dobbiamo cercare di abolirlo e parlare soprattutto di pace e quindi la cerimonia è attualizzata proprio per cercare questo tema della pace che è stato di fondo su tutta la cerimonia.